Fermare ogni forma di ostilità bellica. Nel pieno di un'emergenza che non conosce frontiere, quella del Covid-19 in tutto il mondo, Papa Francesco leva ancora una volta la propria voce per invocare la fine dei conflitti in corso, con un appello al cessato e il fuoco totale. Lo ha fatto al termine dell'Angelus, recitato per la quarta domenica consecutiva dalla biblioteca del Palazzo Postodico. Mi associo a quanti hanno accolto questo appello e invito tutti a darvi seguito, fermando ogni forma di ostilità bellica, favorendo la creazione di corridoi per l'aiuto umanitario, l'apertura alla diplomazia, l'attenzione a chi si trova in situazioni di più grande vulnerabilità. L'impegno congiunto contro la pandemia possa portare tutti a riconoscere il nostro bisogno di rafforzare i legami fraterni come membri di un'unica famiglia. Il Papa ha auspicato poi che l'impegno congiunto contro la pandemia possa portare tutti a riconoscere il bisogno di rafforzare i legami fraterni come membri di un'unica famiglia. Il pensiero di Francesco poi è andato a tutte le persone che patiscono la vulnerabilità di essere costretti a vivere in gruppo, case di riposo, caserme e in particolar modo le carceri. Ho letto un appunto ufficiale della Commissione dei diritti umani che parla del problema delle carcere sopraffollati, che potrebbero diventare una tragedia. Chiedo alle autorità di essere sensibili a questo grave problema e di prendere le misure necessarie per evitare tragedie future.